mamme e papà all'ultima spiaggia benvenuti all'ultima spiaggia mamme e papà alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e l'esraio questi sono i braccialetti per l'open bar e non dimenticate di ritirare i guanti di amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera i bambini si divertono al miniclub e voi avete la rara possibilità di godervi il momento l'ultima spiaggia è quella nella quale prima o poi ci ritroviamo tutti io e colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi quando ti senti all'ultima spiaggia ti senti solo noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno della notte l'ultima spiaggia il luogo di ascolto dialogo incontro scambio confronto conforto e sfogo perché da qualche parte il vapore dovrà pure uscire e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate benvenuti iniziamo il sulle mani lo facciamo dopo domenica 16 ottobre si celebra la giornata mondiale dell'alimentazione e noi ci siamo chiesti ma quante volte parliamo di alimentazione in famiglia quante volte stiamo attenti davvero a ciò che mangiamo la giornata mondiale dell'alimentazione è una celebrazione che è stata istituita dalla fao nel 1979 quindi più o meno alla nostra età si mette lì in mezzo e il tema di quest'anno è non lasciare indietro nessuno che è un messaggio che a me piace molto e poi una produzione migliore una nutrizione migliore un ambiente migliore e una vita migliore mettiamolo su scala globale adesso torniamo indietro nelle nostre case sì perché alla fin fine la famiglia è il primo tassello non la prima comunità che va a creare la scala globale poi e se non ci pensiamo noi genitori al cibo che diamo ai nostri figli quindi all'alimentazione con la quale facciamo crescere le nuove generazioni chi dovrebbe pensarci perché qualcuno a volte pensa che dovrebbe pensarci la scuola il pediatra il nutrizionista sempre qualcun altro in realtà invece ci dobbiamo proprio pensare noi genitori e credo che superficialmente ci pensiamo nel senso che andiamo a fare la spesa scegliamo prendiamo delle decisioni ma quanto nel profondo conosciamo il cibo che mangiamo e che propiniamo ai nostri figli a volte costringendoli a mangiarlo diciamo che possiamo portarvi un caso di vita reale dell'altro giorno io ho trovato uno yogurt che piace particolarmente a mia giada e la mamma è andata a guardare l'etichetta e adesso non lo compriamo più perché più che yogurt era un concentrato di zucchero e altre cose buonissimo era puro zucchero una maialata meravigliosa puro zucchero travestito da yogurt e ho detto ci credo che vi piace così tanto peccato che non sia yogurt quindi magari ricambiamo marca non nomineremo la marca penso che torneremo a prendere con ancora più assiduità lo yogurt che viene prodotto in valle dei mochini che troviamo in un distributore automatico che è molto buono però chiaramente è un prodotto completamente diverso da concentrato di zuccheri con altro perché quello è yogurt decisamente buonissimo e quando io penso di dare come merenda a mia figlia lo yogurt vorrei darle lo yogurt non un concentrato di zucchero messo all'interno di un barattolino di yogurt che è un'altra cosa ma va bene perfetto vedete che poi si torna sempre a questa giusta ed equa posizione molto bene allora cosa ne sappiamo del cibo che mangiamo e questo è proprio un esempio direi calzante hai fatto un esempio calzante bravo bravo ci è piaciuto evviva e ci succede spesso in realtà questa cosa acquistiamo poi se io vado al supermercato quando ho fame quando sono affamato quando sono in sindrome prefessuale è finita quindi acquistiamo anche in modo compulsivo alle volte e ma non sappiamo che cosa stiamo acquistando cosa c'è nel cibo che mangiamo l'altra cosa che a me sconvolge sempre tantissimo è l'insalata noi abbiamo la fortuna di acquistare l'insalata direttamente dal contadino e tra poco spero avremo la fortuna di mangiare la nostra insalata perché abbiamo l'orto che sta crescendo alla grande tra l'altro contro tutti i pronostici esatto quindi ben venga siamo molto fortunati rimango però sempre sconvolta da chi fa la scelta di acquistare l'insalata nella busta quella già lavata pulita asciugata pettinata eccetera eccetera non so cos'altro possano fare l'insalata sbiancata ci stiamo bruciando qualsiasi contratto di sponsorizzazione lo so ma non ha importanza perché io l'insalata in plastica non la posso soffrire quindi non la posso soffrire perché perché se sono andata a vedere come la fanno quell'insalata e di insalata rimane veramente veramente poco ma perché dobbiamo mettere l'insalata nella busta e mi risponderete per farla mantenere più a lungo conservare più a lungo per trasportarla per trasportarla per venderla rispettando le norme geniche il problema è che poi apri la busta di plastica versi l'insalata e quell'insalata che esce dalla busta di plastica non ha niente a che fare con l'insalata che noi adesso siamo abituati a mangiare sì anche come sapore come consistenza come in nessun modo insomma quindi torno a quello che c'è scritto sul documento della FAO giusto FAO sì cosa significa FAO? l'organizzazione mondiale no ok qual è la sigla? la sigla di FAO? no vabbè non la sappiamo andiamo a leggere la sigla di FAO è Food and Agriculture Organization of the United Nations è un'organizzazione dell'agenzia delle Nazioni Unite comunque ok perfetto grazie allora torno al documento che dice una produzione migliore quindi se produciamo meglio ci nutriamo meglio viviamo in un ambiente migliore e abbiamo una vita migliore quindi l'insalata dal contadino capisco che chi abita nelle grandi città e metropoli probabilmente fa un po fatica a trovare un contadino ma secondo me ce la potete fare secondo me cercando si può trovare l'impegno di doverlo cercare per poi avere nel piatto qualcosa di veramente buono sotto tutti i punti di vista vale lo sforzo sì siamo d'accordo vale lo sforzo bene quindi il punto primo il primo punto scusate oggi incarto le parole il primo punto di questa puntata è proprio cosa sappiamo del cibo che mangiamo poco o niente generalmente e ci fidiamo in modo ancora incredibile della pubblicità ah ho un altro esempio fantastico e qui la nostra nutrizionista la nostra amica valentina riderà perché ho condiviso con lei questa cosa un giorno ho acquistato un pacchetto di biscotti con un adesso stavo per dire anche la marca con una fantastica confezione con dei colori incredibilmente richiamanti la natura quindi eco bio natura tutta questa cosa con il farro in prima in prima linea quindi sul packaging e sulla grafica c'era tantissimo farro tantissime fibre quindi era integrale il biscotto insomma tutta questa cosa meravigliosa oddio questi biscotti stupendi li compro quando sono arrivata a casa ho guardato anche lì la composizione a questo punto perché secondo me li compongono in un laboratorio chimico cioè li creano proprio in modo perché di integrale non c'era praticamente nulla o poco le fibre erano in minima parte ma veramente quasi inesistenti e ecco grande marketing grande packaging bravi però alla fine non stavo mangiando quello che pensavo di mangiare esatto sì anche se c'è da dire una cosa in italia dal punto di vista della sicurezza alimentare quindi parliamo solo di sicurezza alimentare viviamo in un paese dove la sicurezza alimentare è estremamente alta soprattutto se facciamo quell'esercizio che ci piace tanto di andare a vedere cosa fanno all'estero la sicurezza alimentare in italia è a un livello molto alto non è perfetto perché che questo sarebbe sarebbe un'esagerazione una bugia però il livello di sicurezza è alto ma infatti secondo me non è un problema di appunto livello di sicurezza o di correttezza delle aziende produttrici il problema è proprio nostro siamo ignoranti nel vero senso della parola cioè ignoriamo che cosa c'è all'interno e io per prima molto spesso non mi prendo la briga e il tempo di leggere che cosa effettivamente c'è dentro e quindi che cosa sto mangiando quindi il problema siamo noi in realtà non sono gli altri perché se andiamo sempre a cercare un sistema che ci protegga che ci tuteli che faccia per noi alla fine non stiamo creando la cultura e invece quello di cui abbiamo bisogno soprattutto in famiglia e come responsabilità genitoriale è quella di creare una cultura del buon cibo ed è quello che dovremmo fare stiamo cercando di fare ci stiamo provando a partire per esempio dalla merenda a scuola bel tema la merenda a scuola allora anche qui dobbiamo dichiarare la nostra fortuna noi da queste puntate di podcast veniamo fuori come super fortunati noi siamo super fortunati secondo me allora la nostra fortuna è che la scuola trentina distribuisce a tutti i bambini e in forma gratuita la merenda e la merenda è sempre un frutto alle volte uno yogurt alle volte un dolcino che però è può essere una tortina allo yogurt o qualcosa del genere insomma è sempre molto così contenuta però la media cioè normalmente frutta nella quotidianità esatto è frutta credo che ci siano due o tre volte al mese in cui è qualcosa di diverso al budino ogni tanto due o tre volte per il resto delle giornate è frutta fresca non imbustata perché ho sentito anche questo delle mele già fatte a fettine e pelate e imbustate ok no è frutta fresca quindi siamo super fortunati scusami ed è anche sono tutte cose che vengono prese da un rivenditore locale molto famoso qui a vergine quindi frequentiamo anche noi sappiamo anche qual è il livello di qualità di quello che viene poi dato a scuola perfetto quindi abbiamo questa splendida occasione e moltissimi bambini non colgono questa occasione perché non mangiano la frutta e mangiano ciò che si sono portati da casa e cosa si saranno mai portati da casa nella maggior parte dei casi abbiamo le meravigliose splendide mirabolanti merendine ancora cioè dagli anni 80 quando le portavamo a scuola io e te che va bene non le sapevamo queste cose non si poteva fare la mia nonna lo sapeva la tua nonna sapeva tutto la tua nonna è un altro campionato lascia stare insomma non lo sapevamo le nostre mamme ci davano le merendine così era anche noi esaurivamo le nostre mamme per avere le merendine che vedevamo in televisione e le nostre mamme esaurite ce le compravano ce le hanno comprate ed è colpa nostra comunque secondo me hai presente tutta la collezione di gommine di tutti delle gomme di tutti ancora tre valigette della mulino bianco non si nomina abbiamo detto che non nominiamo marche cosa nomini ma le valigette le avevamo fatte loro devi mettere un buzz qua quando fai il montaggio di fare sul nome vabbè allora e merendine ci sono ancora mamme perché in questo caso secondo me è un po' colpa delle mamme lo devo dire che danno ai figli le merendine ma avete presente che cosa c'è dentro in quella roba di plastica e io non c'è non c'è un motivo valido buono serio intelligente per dare la merendina al bambino al di là del fatto che il bambino ti sfracassi per averle allora noi abbiamo per esempio un problema di tempistiche già da mangia molto tardi a pranzo per una questione di organizzazione della mensa e quindi dalla colazione del mattino alla merenda di metà mattina fino alla mensa non regge sostanzialmente solo con la frutta della scuola quindi anche noi le diamo qualcosa da casa però abbiamo fatto sempre parlando con la nostra nutrizionista di fiducia abbiamo fatto questa scelta di darle della frutta secca eventualmente una barretta sempre appunto di frutta secca e cereali perché questo le dà chiaramente l'energia di cui ha bisogno quando sbagliamo a comprarle col fondo di cioccolato ma questo è un altro discorso vabbè dai ok appunto anche quelle sono confezionate sono nella plastica e quindi ammettiamo anche le nostre le nostre colpe non è che siamo su quelle avevamo pensato di farle a casa ma dovremmo iniziare a fare dobbiamo iniziare va bene detto questo la frutta secca è un buon è una buona alternativa come potrebbe essere anche lo yogurt che è un po più difficile insomma da portare a scuola perché se si apre in cartella abbiamo fatto il disastro però ci sono modalità per evitare le merendine le mamme più brave che sono quelle che io stimo profondamente non sarò mai come loro fanno le torte fanno i biscotti li preparano il giorno prima o magari a fine settimana per la settimana successiva e quindi possono andare ai bambini qualcosa di fatto in casa profonda stima se avete tempo se avete passione se avete voglia questa cosa è bellissima io non ce l'ho e quindi passiamo alla frutta secca ma sempre meglio che la merendina produrremo barrette va bene vi faremo sapere della nostra produzione di barrette fatta in casa si il bimbi le fa hai fatto un hai citato un'altra marca allora andiamo avanti a proposito di frutta perché la scuola distribuisce la frutta c'è un tema di qualità nutritiva quindi qualità dell'alimentazione dei bambini mentre sono a scuola e c'è anche un altro tema che secondo me è altrettanto importante anche se con una prospettiva più di lungo termine è una questione di educazione alimentare io educo i bambini a mangiare frutta negli snack diciamo e non a mangiare altro e soprattutto li educo a mangiare regolarmente intervalli regolari perché saltare la colazione saltare i pasti non ci fa bene questo direi che ormai sappiamo delle cose e non possiamo far finta di niente la frutta e la verdura devono essere presenti nell'alimentazione di tutti noi praticamente in tutti i pasti della giornata in tutti i pasti consigliati figuriamoci per i bambini che stanno crescendo quindi ne hanno profondamente bisogno quando io sento di mamme che si lamentano perché i bambini non mangiano la verdura non mangiano la frutta mi domando cos'è successo nella crescita nell'esperienza alimentare di quel bambino perché credo che sia naturale per l'essere umano mangiare frutta e verdura credo che sia scritto nei nostri geni quindi se la rifiutano probabilmente è successo qualcosa che li ha portati a questa reazione dobbiamo in qualche modo riappacificarli col mondo della frutta e della verdura ed è estremamente importante non possiamo far finta di niente secondo me c'è anche un altro tema che se non sono buone la frutta la verdura qualunque frutto qualunque tipo di verdura che ho davanti a me se non è buono nel senso che è di bassa qualità ha un sapore magari che non si sente o se è trattato il problema è che è trattato in qualche modo ho anche barra cucinato male ok può essere un altro problema ho troppo condito però non essere in grado di apprezzare i gusti e sapori di frutta e verdura secondo me è un grosso ostacolo perché per esempio il più buono della frutta non c'è niente ok e qui però entriamo nei gusti ed è un gusto personale però della frutta non ti ho detto di alimenti processati perché anche la sensazione che ti lascia dopo secondo me è parte dell'esperienza del nutrirmi con la frutta io mi sento bene mi sento appagato sotto tutti i punti di vista e questo secondo me è un aspetto che dovrebbe completare la nostra esperienza di alimentazione quindi non solo mi nutro bene dal punto di vista nutrizionale più stretto ma anche con tutte le sensazioni che posso provare qua c'è un tema interessante che potremmo approfondire in altro momento che è proprio quello dei sensi dell'utilizzo dei sensi e del spiegare ai bambini come utilizzare i sensi come dare ascolto ai propri sensi perché invece nella nostra educazione standard diciamo nella cultura in cui siamo immersi si dà sempre meno attenzione ai sensi se non a quello della vista che è quello oggi più più diffuso e più utilizzato e quindi il la mela deve essere bella lucida perfetta senza senza come si chiamano buchi insomma senza imperfezioni grazie senza imperfezioni e quindi agli occhi dei bambini il problema diventa che se una mela è bacata non è buona e invece non è così e noi glielo dobbiamo insegnare altrimenti chi glielo insegna giusto e poi sempre rispetto ai bambini c'è un altro tema che abbiamo già affrontato in questa casa abbiamo risolto che però è importante secondo me che la questione latte sì o latte no il latte è un alimento molto discusso mettiamola così in casa noi di latte animale non ne prendiamo quasi mai succede raramente di solito non è per noi ma è per giada e lo prendiamo dallo stesso distributore dove prendiamo lo yogurt quello buono e prendiamo il latte quello buono munto da poco chiaramente pastorizzato perché non può essere venduto altrimenti ci sono dei pericoli enormi con il latte crudo che non tratteremo oggi e lo prendiamo poco beviamo delle bevande vegetali sì su questo a costo del latte sì su questo devo dire che non è stato così semplice arrivarci perché oggi non compriamo più latte ma in passato io ne compravo e ne bevevo tantissimo e di conseguenza anche giada ovviamente è stato un passaggio difficile abbandonarlo tra virgolette e abituarsi ad altri sapori quali quelli delle bevande vegetali che non sono solo soia ma ce ne sono tantissimi e buonissime vorrei aggiungere esatto io direi che la chiave di tutto è stata la curiosità di voler assaggiare capire che cosa c'è no ad altro e anche per la bambina ha funzionato questa chiave perché dal primo no secco e non voleva assaggiare nulla e non le piaceva nulla di quello che le stavamo proponendo siamo arrivati addirittura a bere il latte di cocco e riso che io non avrei mai provato invece perché per me era una cosa particolarmente strana il primo l'ho preso io e invece adesso lei lo adora quindi alla fin fine anche assaggiare cose molto particolari che ci possono sembrare appunto strane incontrano i nostri gusti un'esplorazione tutto sommato un viaggio e anche questo secondo me dal punto di vista educativo è molto importante l'alimentazione è esplorazione è un viaggio quindi provare assaggiare mixare non è detto che debba piacere tutto però il fatto di non averlo provato lascia comunque il dubbio sì ed è un peccato avere dubbi ad ampio raggio diciamo cioè il dire di no a tantissime cose mangiare sempre le stesse cose sempre sempre ed è comunque limitativo è limitativo mangiare sempre le stesse cose e non aiuta l'ultimo dei nostri temi di oggi che è la biodiversità noi abbiamo bisogno di sostenere la biodiversità di portare avanti la grande grandissima varietà che il nostro mondo ci offre di poi anche la diversità nella nostra alimentazione oltre a seguire la stagione ogni stagione viviamo in un'area di clima temperato si offre tantissimo anche l'autunno e l'inverno e torniamo al discorso della nostra ignoranza sappiamo davvero poco su quelli che sono gli alimenti per esempio delle nostre terre della stagione anche e quali sono i cereali per esempio quanti cereali esistono li conosciamo li sappiamo utilizzare perché poi oltre a conoscerli bisogna anche saperli cucinare e quali hanno i glutine e quali no? ma il glutine fa sempre male ma cos'è il glutine? queste domande poi i bambini ve le fanno nel momento in cui si entra nell'argomento ed è bello anche scoprire insieme esplorare è bello saper rispondere sai che non lo so che cos'è il glutine andiamo a guardare insieme esatto o quantomeno non conosco abbastanza bene l'argomento per poterselo spiegare quindi magari nella mia testa penso di saperlo ma poi quando lo devo spiegare boh ok andiamo a vederlo insieme e questo è un modo per crescere per studiare per imparare che va al di là di quello che è la scuola ed è giusto che sia così perché la famiglia deve mantenere il suo ruolo educativo anche in questo senso quindi non possiamo delegare alle istituzioni il nostro ruolo educativo riferito all'alimentazione è strettamente familiare oggi ci siamo bruciati le possibilità di sponsorizzazione con tanti tanti potenziali sponsor e siamo felici così dal festival del podcasting ad oggi ti sei fissato con gli sponsor non importa è lo stesso va bene così va bene così mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani grazie per essere stati con noi saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista scriveteci qualcosa di bello vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club tutto attaccato il link è disponibile in descrizione e nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea Slango Foil ciao 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 ciao